ok ragazzi eccoci in game con un mal di gora della madonna ok andiamo a spiaggia snob qua a sinistra a 249 sti qui vivi anch'io facessi sulla casetta sinistra infine qua si spacco faccia da sinistra watchbook se esce insieme a te è l'importante hai visto aiuto d'ucciderlo se vuoi sono dicendo scendo dall'alto husk a r verde c'è blu rincipiamolo in seguito va a uccidrò fortissimo da chi il più brutto di sempre proprio c'è una r verde per chi lo vuole c'è per chi lo vuole essere 640 anni da colpi madonna sono cazzo non lo so cazzo vengo ma dove cazzo muoviti ciao 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 thank you ok l'ho il il spetta fai ciao no t ci siamo a due killettine Questo qui Raga qua c'è qualcuno Perché era a terra Non è morto Chi lo vuole raga Io ce l'ho già l'air blue Eh se vieni qua Guardalo Michael come l'ha visto Subito sono messo a correre No qua non c'è Qua c'è un tattico Verde Si così raga R è blu Oh tutti con la R è blu No oh che c'è Eh Che l'ho ucciso L'ho ucciso io No non ho altro a chi lo ha No Nabo C'è l'idea è proprio di sì Ah non l'avevo sentato Fantastico Sta cassa qui è sempre un po' un problema Prendisi Esatto Qua c'è un Rè blu Qua c'è un Rè blu Quanti Rè blu oggi No la trappola no 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 ci fermano buono se non si fuma con il sito c'è la cassa vado un giocchino blu e prendere in fretta però che schifo 6 il sito tranquillo ci sono è vero che il suo avviolo a tanti colpi non si chiamata per sommare i cicchini quelli normali non quelli con la r non ho capito o ancora si tratta di 4 per oggi cioè in totale ne abbiamo trovati 4 3 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 un cecchino viola la testa è quello dello scorso è quello dello scorso video o stella stella chiamano mai con che ha trasportato non so se non ci ha finato dipendenti mi sa proprio di si sa il pinnacoli pendenti se non sparano lì aspetta ecco lì io li ho visti no corriamo poco il cecchino però li ho visti? no scusavo si era in fondo granata shh è una distrazione è dietro ah è 88 quella cazzo lì del cazzo dell'immondizia si guarda i lati voi guardate la vanta cioè oddio con quella no si chiude la vanta io non la capito molto però raga la safe lasciamolo perdere quello aggiriamolo lo vedo qualcuno dove? e' 75 detro la roccia tipo avete visto? nope si è la dove? guardalo la e' guardalo là si scappando si scappando ah ecco guarda che 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 ti ho fatto bella buzza la vita 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 buzza ma no gli è passata tra le gambe via oh voglio molto perciò anche gli altri però perchè spaccato e' ah ma cazzo vuole quello che spacco con le granate? figa lo spacco uccasso se stai fermo ti beccano dai ho tolto 47 rischio oh vaffanculo pusho col pompa ok l'ho shottato ma cosa? ma cosa? ho lasciato? non mi senti no ho visto non mi erano io l'ho girato si avrei fatto e avrete fatto un po' di danno voi un po' eh eh ho fatto la cosa sento il cuore mi servirebbero dagli scudi ecco ecco mi serve qualcosa mi faccio un mini coso dove è che era? avete qualcosa per curarla? si io ho le ben ho i medici te le ben te le ben dammi il medici dammi il medici dammi il medici dammi il medici mantenga il medici è qua silenzio totale vedi qualcuno? ecco l'airdrop a 74 e l'airdrop sentito una trappola dove sei? ma si può sentrare quando voglio 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 si ce l'ho oh to e e lo scettico dietro bus vabbè da destra da destra da destra da destra copritevi costruite ok se mi sono il legno oh lì struite bravo ok dietro 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 è dietro raga è dietro e ho visto madonna dove è andato? eh ma è qua è qua occhio se cagnol bux ha raga siete in due se fighe sei morito quante sverle sta costruendo il finocchio curami stai la senna si 5 kg fatto raga curatemi bravo ma io avevo delle bende un tempo e ce le ho io tranquillo sganciare subito easy veloce siamo 3 contro 2 5 bravo tieni raga mi serve qualcosa per curarmi vieni qua bussano no non 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 ce l'abbiamo allora si no fermi raga eh fermi eh fermi siamo 3 contro 2 contro chi precisamente contro chi precisamente siamo intanto ah è vero è un quale non è 6 c'è un coso verde a capire dove sono quei buffo fi facciamo fortino facciamo fortino raga han costruito una a 60 anzi 50 tra la fai la ordinate roba dove 35 avevo io ragione è stato pieno costruiamo nessuno fra l'altra scala si martini ok ok aspetta prendete lo scar destro occhio sono qua sono qua sono qua spaccalo 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 sono qui maicoli che buco ma non con il legno maicoli 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 no bucsa bucsa è qua sta pushando col pompa no oh dovete esplodere non ha un legno nooo raga ok ragazzi spero che il video vi sia piaciuto se così fosse lasciate like iscrivetevi ringrazio samu e michael vabbè bucsa è già andato e noi ci vediamo in un prossimo video bella raga ciao 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 ciao